...all'ottore di raccontare i luoghi descrivendo nella natura culturale, sociale, gastronomica e ambientale. E tutto ben riduito con una buona dose di fantasia. ...la limitativa tutta Lugana, tutta Lugana prodotta da un regista Lugano con un'attacchia musicale di musica e di Lugana. E per dare il senso della nostra presenza e quindi lo saluto ai nostri collegionali che vivono qui a Berlino, che vivono i giornali, ma nello stesso tempo per mettere in evidenza come anche una piccola regione con i suoi talenti naturali, soprattutto i giovani, riesce a dare un significato, un senso anche allo cinematografia, allo spettacolo bambico, a tutto quello che incitra la cultura intenzionata. Io non devo aggiungere altro che un breve saputo, se non descrivervi breve quella che è la presentazione che voi in questa sera assisterete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.